Imperativo ripartire e tornare al successo prima della partenza per Torre del Greco dove la Virtus giocherà domani in recupero con la Turris, Taurino ha parlato in conferenza stampa così Se rivedete gli ultimi due mesi siamo sempre stati in queste situazioni, è inutile lamentarsi, l'abbiamo già vissute tante volte queste numerose assenze, domani ne avremo penso almeno 6-7 uomini che non avremo a disposizione Però come abbiamo sempre fatto stiamo in silenzio, lavoriamo e cerchiamo di tirare fuori il meglio, l'abbiamo già fatto in altre partite Il calcio è forse uno dei pochi sport dove non basta fare una prestazione, dove non sempre vince chi fa la migliore prestazione Io posso vedere la partita con chiunque, rivediamo insieme la partita di Monterosi, può venire chiunque, è un invito a tutti Ci mettiamo qui, c'è il televisore grande così la vediamo bene, vediamo la partita insieme e se una persona, una, mi trova durante la partita un atteggiamento sbagliato di un mio calciatore Ok? Di un mio calciatore io mi dimetto domani, me ne vado E il tecnico poi si sofferma anche sul clima, torna alla squadra Io sono convinto che la squadra, al di là di alcuni problemi che secondo me con le analisi lucide noi abbiamo anche individuato Alcuni sono risolvibili, alcuni no Dove possiamo intervenire però stiamo cercando di intervenire, cercando di trovare soluzioni Però non ci dobbiamo far prendere da questa negatività che aleggia intorno alla squadra Le altre persone, ognuno è libero di scegliere che tipo di atteggiamento avere Scegliere che tipo di atteggiamento sbagliato di atteggiamento